cari amici ed amiche buonasera siamo qui con una novità e eccola qua carlin kit a2a nuovo arrivo su amazon e l'abbiamo provato subito vicino a lui vedete il mitico aa wireless e qui il mio samsung a52 attualmente collegato ad android auto via wireless grazie a carlin kit a2a allora per farla breve come vedete siamo collegati perfettamente spotify sono visibili anche le copertine cosa che invece se comprate un accessorio tipo autocast u2x oppure carlin kit 4 non vedevo sulla mia sul mio cruscotto invece con carlin kit a2a con aa wireless e con car sci-fi riesco a vedere anche sul cruscotto le copertine spotify questo perché questi tre accessori che ho appena detto anziché utilizzare il modulo car play per poi collegare un cellulare android via wireless ripeto a2a car sci-fi e aa wireless utilizzano proprio il sistema android auto wireless quindi la vostra autoradio vedrà tutto ciò che vedrebbe collegandolo con via cavo android auto wireless io lo sto testando da diversi giorni carlin kit a2a lo trovo ottimo plug and play quindi si collega la prima volta e non dovete più fare niente non ci sono applicazioni sul cellulare non ci sono settaggi da fare sono possibili però gli aggiornamenti via ota a me ancora non sono arrivati però ci sono le istruzioni e la procedura per farli attualmente io sto tenendo nella mia macchina questi due dispositivi e sinceramente ancora non ho scelto quale vendere dei due a2a wireless a2a di car sci-fi funziona bene mi piace molto come funziona bene mi piace molto anche aa wireless per esempio aa wireless è possibile cambiare i dpi e per esempio quindi avere lo split screen cosa invece che non è possibile con la 2a con il quale non è possibile fare nessuna modifica c'è da dire però che il mio smartphone connesso via cavo avevo questa schermata quindi non quella divisa perché diciamo lui riporta fedelmente ciò che accadrebbe collegandolo via via a cavo secondo me è un prodotto eccezionale prima cosa perché lo trovate su amazon quindi in caso di problemi potete fare il resto tranquillamente e poi perché non ci sono settaggi particolari o procedure particolari da fare per farlo per farlo funzionare quindi secondo me attualmente è il miglior dispositivo in vendita su amazon italia credo che assomigli molto al gadget di motorola ma1 mi pare ci chiami che però non è commercializzato in italia non ho potuto provare da quello che ho capito il funzionamento è molto simile quindi anche quello è plug and play però il motorola ho letto che non ha gli aggiornamenti e se ci pensate magari tra un po di tempo si potrebbe si potrebbero avere degli aggiornamenti di android che magari non avendo degli aggiornamenti potrebbero nascere delle incompatibilità future invece con carlin kit a 2a queste incompatibilità verrebbero sanati con degli aggiornamenti anche per la car perché carlin kit è un'azienda molto grande molto solida e quindi mi immagino che nel futuro sicuramente farà degli aggiornamenti e un'assistenza per questo prodotto quindi ecco un saluto pasqui che ci ospita nel canale gli amici di revotech e ci vediamo per il prossimo accessorio anche se credo che nella mia macchina terrò questo carlin kit a 2a